Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante, l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie e delle parafarmacie. State compiendo dei sacrifici e so che non è facile, ma sappiate che queste vostre rinunce, piccole e grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo.